120.000 volte grazie, un grazie di cuore a tutti voi follower di Videostar. Oggi la pagina Facebook ha raggiunto un traguardo di tutto rispetto, quello dei 120.000 follower. Siete in tantissimi e ci sentiamo di ringraziarvi tutti, uno ad uno. Questo ci ripaga del nostro impegno quotidiano che mira ad un'informazione tempestiva, puntuale, soprattutto onesta e credibile. Videostar sempre più punto di riferimento per i cittadini, come d'altronde lo è sempre stato dall'avvio dell'attività televisiva risalente ormai al 1986. Una redazione operativa 24 ore su 24 per garantire sempre, in qualsiasi momento del giorno e della notte, aggiornamenti in tempo reale. Uno sforzo questo molto apprezzato dai nostri follower che minuto dopo minuto ci seguono. Una pagina raccomandabile, a dirlo è meta. La pagina come la tua uniscono le persone, la tua pagina ora è presente nelle liste in cui suggeriamo pagine alle persone nuove. Questo è quanto scrive Meta. A seguirci è un pubblico variegato che oscilla maggiormente da un'età compresa fra i 18 e 65 anni, il 54% uomini e il 46% donne. Paternò, Biancavilla e Adrano sono le città che fanno contare più follower. Una pagina punto di riferimento anche per i tantissimi emigrati che per motivi di lavoro o altro sono costretti a stare lontani dalle loro città di origine e che si trovano sparsi nel mondo. Grazie all'interazione con la nostra pagina è un modo questo per stare vicini e non perdere mai di vista i luoghi di affezione. Punto di riferimento anche per i tanti cittadini che attraverso la nostra pagina ci contattano per evidenziare problematiche che spesso, grazie al nostro intervento, le amministrazioni comunali le risolvono. Notizie, approfondimenti, video, servizi, dirette per un'informazione in tempo reale su tutto quello che accade nel nostro comprensorio. La nostra è la pagina più seguita in assoluto rispetto a tutte le altre dedicate all'informazione locale del territorio da noi servito, la più autorevole e quindi la più seguita e consultata dai cittadini. Grazie ancora a nome di tutto lo staff tecnico ed amministrativo di Videostar, 120.000 è un bel numero, ma siamo sicuri che i follower continueranno a crescere sempre di più e questo ovviamente ci fa piacere. Ricordiamo che parlando sempre di social l'informazione di Videostar è presente anche sulle altre piattaforme X, Instagram, Telegram e Whatsapp.